Cari lettrici e cari lettori, innanzitutto un grazie, avete imparato a conoscerci, a seguirci con i nostri test e le nostre inchieste, ultima quella degli antibiotici sul latte, ma anche quelle sul grifosato, sulla pasta e ci riconoscete ormai, il salvagente lo conoscete, lo trovate in edicola, ma quello che vogliamo raccontarvi oggi e presentarvi oggi è la nuova campagna Abbonamenti del salvagente, una campagna che davvero cambia anche il modo di utilizzare il vostro e il nostro giornale. Partiamo con la formula base che è quella, consumatore informato, come ovvio, come sempre, avrete a casa ogni numero del salvagente, anche se non doveste riceverli, vi basta chiamare il nostro numero verde e vi verrà rinviato il giornale in qualunque momento, quindi il mensile, tutte le sue inchieste, i nostri argomenti, le vostre curiosità ogni mese direttamente a casa vostra. Come è successo anche in passato, anche in questo piano di abbonamenti avrete a disposizione il giornale in qualunque luogo voi siate, perché inclusa nella formula consumatore informato avete la coppia digitale della rivista su telefono o su tablet, tutto a 45 euro per un anno di abbonamenti. In più, un libro, un libro del salvagente riservato a voi, un libro fuori commercio che non trovereste in nessun altro modo, uno di quei libri che come sempre tratta dei vostri argomenti, degli argomenti che ci interessano davvero e li tratta con il nostro modo di fare giornalismo. La novità, la novità vera di questo piano abbonamenti è Ascolta il salvagente. Di cosa stiamo parlando? Sono gli articoli principali del vostro mensile, del mensile a cui siete abbonati, che potrete sentire tranquillamente raccontati da una voce. Quindi potrete ascoltare il salvagente, conoscere le sue inchieste, semplicemente ascoltandole raccontate attraverso un podcast. Come vi dicevamo, questo piano abbonamenti è a 45 euro l'anno. In realtà se faceste i conti del valore delle offerte che sono incluse in questo piano, che è consumatore informato, sareste intorno ai 237 euro, come vedete nel cartello. Quindi una convenienza ancora una volta per un'informazione che non troverete da nessun'altra parte. Ma passiamo, passiamo al piano consumatore esperto, il piano premium, il piano più ricco che il salvagente e la sua campagna abbonamenti 2020 vuole presentarvi. Come nell'altro abbonamento avrete la rivista a casa ogni mese, una copia digitale sul tablet, sul telefono e quindi non perderete mai nessuna delle inchieste del salvagente. Avrete un libro del salvagente, tutto per voi, di quelli riservati non in vendita e, come prima, ascolta il salvagente, ossia gli articoli principali, le inchieste principali del salvagente lette per voi, che potrete ascoltare in qualunque situazione, in qualunque occasione, anche quando non avete il giornale con voi. Rispetto alla formula abbonamento consumatore informato, quella consumatore esperto include le due nuove guide antitruffa ogni mese, quindi due volumetti antitruffa che trattano dell'alimentare ma anche dei vostri diritti, della burocrazia, della salute, della sanità approfondiscono un tema. Bene, riceverete a casa due ogni mese. In più, e questo è davvero, io credo, diciamo un valore eccezionale, avrete l'archivio storico digitale, 58 numeri del salvagente a vostra disposizione, finché dura l'abbonamento potrete consultarli e consultare per esempio i test che vi sono sfuggiti, le inchieste, i servizi, le guide. Altra novità, il question time. Abbiamo chiamato così un incontro tu per tu con la redazione su alcuni temi in una diretta video riservata proprio agli abbonati esperti. Potrete porre le vostre domande alla redazione, avrete a disposizione esperti e giornalisti e approfondimenti che vanno al di là dell'inchiesta che avrete letto sul giornale, che risponderanno anche ai vostri dubbi. Questa formula, questa formula viene 99 euro l'anno, è molto più conveniente ovviamente dell'altra se fate due conti, i nostri tecnici hanno fatto i conti, vedete il valore reale dovrebbe essere intorno a 1222 euro. Un bel risparmio, come sempre le nostre formule di abbonamento sono trasparenti e sono sicure per voi, perché avrete 60 giorni per ripensarci. Diritto di ripensamento che sapete, ormai voi che leggete il salvagente non viene offerto da nessuno. Nel caso voleste ripensarci avrete il rimborso integrale della cifra spesa per l'abbonamento. I bonus, quindi le guide, i libri arrivano subito e restano vostri anche se doveste disdire l'abbonamento. Non ci sono penali e penali nascoste e ci mancherebbe altro per un giornale dei consumatori e il prezzo dell'abbonamento non cambierà il secondo anno. Beh, non perdete tempo, vi aspettiamo a barraccia aperte per le vostre e le nostre inchieste sul salvagente come abbonati. Scegliete una delle due formule a vostra disposizione.